Noi siamo favorevoli alla riduzione della spesa pubblica, ma là dove ci sono gli sprechi, là dove è concentrata sui costi dell'apparato statale, che non vengono assolutamente intaccati da questa finanziaria. È inaccettabile invece che si vada a intervenire riducendo gli investimenti per la sanità, per la nostra salute e per la salute dei nostri cittadini. Anche in questa finanziaria c'è una riduzione reale di oltre un miliardo di euro e gli unici governatori che stanno difendendo le regioni, ma ancora più i propri cittadini, sono i governatori di Lombardia, Liguria e Veneto, che sono da soli nel contrastare queste azioni irresponsabili da parte del governo. È evidente agli occhi di tutti che la qualità della nostra sanità di anno in anno sta peggiorando ed è irresponsabile continuare in questa politica che penalizza non i governatori, non la classe politica, non l'apparato, ma esclusivamente i cittadini.